Molti di questi signori che vedete qui hanno preso quello che è il premio Nobel per l'informatica che si chiama, non a caso, medaglia Turing. Pier Giorgio Di Freddi sul palco del teatro Petrarca per spiegare l'intelligenza artificiale. Quando arriverà il livello di complessità di un cervello umano, cosa potrà fare un'intelligenza artificiale? Il matematico, logico, scrittore e saggista con lo spettacolo, l'intelligenza artificiale e l'ultima scintilla è stato il primo ospite di Arezzo Science Lab, il nuovo progetto di fondazione Guido d'Arezzo e associazione Lab con Feltrinelli in programma a cadenza mensile nei sabati della fiera antiquaria. Sono macchine che sono ormai arrivate allo stesso livello di intelligenza dell'uomo e spesso lo superano, per esempio nel gioco degli scacchi, ormai le macchine sono molto più brave degli uomini naturali e l'intelligenza artificiale sta crescendo a ritmo vertiginoso però l'idea che le macchine poi prendano sopravento è un'idea molto antica infatti nella conferenza al teatro sull'intelligenza artificiale faccio vedere quali sono le origini letterarie di questo mito. Il mito di Pigmalione per esempio e di Galatea è già quello è l'idea che uno scultore può fare una statua così bella che si assomiglia talmente tanto a una donna che vorrebbe che quella fosse veramente una donna e in realtà il mito del golem ad esempio Frankenstein, l'apprendista stregone di Goethe che poi è diventato un film di Walt Disney con la scopa che andava avanti e indietro e questo tema della macchina che scappa di mano e che diventa poi alla fine un problema per il suo inventore è un tema che pervade tutta la letteratura o perlomeno tutta una parte della letteratura quindi i letterati ci hanno messo in guardia e noi continuiamo ad andare avanti a proposito del correre verso il burrone questo è un altro dei motivi che fanno pensare che l'umanità potrebbe appunto alla fine decretare la sua fine grazie